momento epocale Sommobuta si è frenato prima di fare uno spoiler ragazzi ma adesso cade un meteorite Fributa ma zitto fantastico non so se te l'hanno mai chiesto ma volevo sapere cosa pensi di GioGio eh cosa pensi l'ho sconsiderato un pazzo criminale allora dai facciamo facciamo un discorso serio su GioGio GioGio un bagno solo GioGio la sua cucina che si chiama Giovanni esatto di cui ne ho parlato spesso tantissimo domani domani leggiamo un'intervista ragazzi non inferite è un uomo malato non lo vedete come sta combinando per favore in chat trattenetevi solo noi possiamo solo noi possiamo Sommobuta in chiamata Sommobuta in chiamata Sommobuta in chiamata Sommobuta Sommobuta in chiamata ragazzi ma ti pare possibile che io vengo un'intervista con però è incredibile questa cosa quindi divertitevi bravo noi siamo piccoli siamo piccoli e umili dobbiamo crescere vogliamo sapere più quello che pensi tu adesso muovediamo cosa dici vabbè divertitemi grazie buona serata buona serata ho sfunculato ban promise Joe Joe è un'immondizia pura è proprio bonnezza pura È la brutta copia della brutta copia della brutta copia Di un tentativo mal riuscito Di voler emulare un tentativo mal riuscito Un tentativo mal riuscito Un tentativo mal riuscito Un tentativo mal riuscito Di Kenny il guerrero Quello è Quando vedi degli omori Incazzato buta Di 16 anni Questo succede quando non mangi la pizza per tanti anni Poi impazzisci Ma certo Che vanno Incazzuta Dal papà E gli chiedono Papà ci dai la paghetta Papà Che vuoi fare Ti viene da ridere Io la prima volta che ho letto Di Di quei due Che vanno dal papà E chiedono la paghetta Dico ma è serio questo fumetto Ma è del mestiere Questo qua che scrive Vabbè La seconda Almeno è corta Quindi si Se lo leggi Vabbè Disegnato una munnezza Però Vabbè La seconda serie Deci sono i nazisti Cattivi Cattivi che urlano Sto pensando Guarda la faccia È distrutto È una chiave Bene È distrutta È una chiave Grazie Vabbè pure per me Anzi Non sono proprio cattivi Cioè Sono nazisti Buoni All'interno di un manga Giapponese Non avevo proprio dubbi Che questa cosa potesse Accadere Quindi è una merda Già di base Cioè pure Cioè Cerca qui Qui è un po' meno copia Di Kenshin in realtà Meglio ma è sempre una chiavica Ma Quando penso a Raki Quando a scuola dicevano Signora vostro figlio è intelligente Ma non si applica A Raki Signora vostro figlio si applica Ma non è intelligente Vabbè Il contrario Quello che colpisce in realtà Della seconda serie Jojo È il finale Il finale ha veramente Una Un colpo di reni Per cui Quando c'è Quello Quello scontro Su Sulle bighe Stile Stile Benur Con lo scontro Finale Totale Tombale Ammetto Che Ho detto Ma Ma è poca Ma è Eh 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 Porca vacca È porca vacca Porca vacca Eh questo è interessante Perché poi Poi c'è tutta la parte Dove lui Sembra aver vinto Ma poi C'è quella perdita Eh Grazie Lukazuki Grazie Eh 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 Dalla terza stagione Dici Hmm Le cose cambiano Tutto Del tutto Parte questo viaggio Di questo gruppo Eh Alla scoperta Dell'Egitto E c'è L'introduzione Gli stand Il fumetto Cambia letteralmente Da così a così E ammetto Che Ho fatto Veramente Molta 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 Fatica A staccarmi Sia quando Ho letto Per la primissima Volta La terza Serie Sia Quando Ho ricomprato Ho comprato La 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 ristampa In volumi Cicciosi Perché io l'avevo Scroccato Gio 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 Ce l'aveva Un amico Che a sua volta A cui Il fumetto Era stato Parcheggiato A casa Quindi io me l'ero Letteralmente rubato Perché ero curioso E Ne rimasi proprio Affascinato Soprattutto Nella terza serie I Gli scontri Che secondo me Meritano davvero Di più Sono quelli Puramente Strategici Soprattutto quelli Contro i fratelli Darby Normi Totale Proprio Parere più Normi Che potesse dare Cioè La terza serie Di Gio Gio E Penso a parere Quasi di tutto il mondo È quella Più noiosa Quella più Una palla Perché sono solo Loro Che si picchiano Chiaramente Per Sommo Bu È la migliore Mi sembra giusto No? È perfetto E porca puttana È ripetitiva Come la merda Quella cosa Ogni volta Nemico 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 È una palla Lunghissima Noiosa E brutta Dove non si capisce Niente Secondo me Con gli stand Si è proprio Incartato Cioè all'inizio Parti marziali Con la luce del sole E basta Cioè diciamo Stava là Ok Era una cosa strana Con un po' di strategie dentro E andava bene così Dopo con gli stand Ma comincia a incartarsi In una maniera incredibile Perché Tutti 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 Faccio come sono Pug Tutti 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 Non ce Nel cerchio Di Vanillice Che sta mangiando Tutto E dice Silver Chariot È troppo pesante Non ce la fa A tirarmi Via Da questo cerchio Perché non si toglie L'armatura Silver Chariot E diventa Più veloce Perché non fai Quello Lo star finger Di star platinum Ma che è quella cosa Con il dito che si allunga Non lo fa mai più Che sono questi poteri Ma che cazzo dici Sono bubù Stasera peggio Parte noiosissima Veramente si salvano Secondo me manco tutti e due Gli scontri con Darby Perché Solo con il Darby maggiore Il Darby minore C'è una palla Che loro stanno lì Con i videogiochi Secondo me quelli Sono proprio La cosa più figa Di tutto Jojo E poi vabbè Ci sono i combattimenti Di Iggy Ovvero la cosa divertente È quando effettivamente Araki Va proprio fuori Sopra le righe Se nella prima serie E mezzo Il suo andare sopra Le righe Secondo me stonava Con il tono Perché Araki Secondo me non sapeva Proprio dove andare a parare Voleva prendere un po' Da Devilman Con la faccenda della maschera Voleva prendere Gli stilemi Davvero tipici Di Ken Shiro Poi capisce Che forse Il suo Punto di forza È veramente Stare Un po' Un po' Proprio camminare Sul filo A metà Tra il baratro E il cattivo gusto E Allora ragazzi No che cosa è successo Stava uscendo fuori Il potere di sommo Cioè No praticamente Mi sono accorto Che il livello Del microfono Era tipo Bassissimo Era tipo Era a 50 La preamplificazione Esce fuori Un qualcosa Di proprio Di stranissimo E ora Ho aggiustato E anche praticamente Laddove Araki Era davvero un copy Di Tetsuara Comincia ad assumere Un tratto proprio Appena lo vedi Dice ok Quest'Araki Non è più Tetsuara È Araki Cambia Letteralmente Direi che andava bene prima Allora facciamo così Però questa cosa Poi me la devo ricordare sempre Perché se no è un casino Madonna mia Come odio fare le live No Odio fare le live Dove non sto da solo Con le cuffie Perché poi dopo Diventa tutto un bordello Il vero problema Forse è la terza serie Di Jojo Che per quanto Il roster sia bello Affiatato La storia è divertente Fai fatica A staccarti Non ti stacchi Tutta la parte della nave È proprio grandiosa E Dio Brando è una macchietta Il tanto Amato Venerato Dio Brando È proprio il classico Protagonista Da videogioco E Terza serie Effettivamente Dio Brando è un po' un scemo Così c'è Lo ho detto No ma c'erano entrambi Si ha il desktop Non basta quello Ma noi lo sentiamo comunque No ma ok Per cui ti rendi conto Che anche la terza serie Di Jojo In realtà Subisce davvero Gli influssi Del battle manga Tipico Ma praticamente La terza serie È un videogioco Ma proprio loro Che vanno dritti Così E devono combattere Nemico Dopo nemico Dopo nemico Dopo nemico Io lo chiamo L'ho sempre chiamato Jojo Poi lo so Dovrebbe chiamare Jojo Fate finta che si chiama Jojo Ma io lo chiamo Jojo Per cui Per quanto il finale Sia interessante Perché poi c'è tutta la parte Con gli stand Capisci che Lo stand di Jotaro In realtà Fa Cioè è una supercazzola No Quello è uno stand veloce Diventa talmente veloce Che Mi fermo Se qualcuno Non l'ha mai letto Dicono che spoiler E quindi il momento Il momento epocale Sommobuta Si è frenato Prima di fare Uno spoiler Ragazzi E che è successo Ma adesso Stai attento Che cade un meteorite Fate attenzione ragazzi State Aprite le finestre Di casa vostra Guardate fuori Perché può succedere È uno Skrull L'hanno sostituito È un alieno È lo Skrull Non è lui Non è il vero Sommobuta Non succede Non lo so Adesso il papa dice Evviva il papa nero Esce Gesù Sicuro Bergoglio esce fuori In mutande Per strada Va a fare il pride Non saresti felice Di vedere papa Bergoglio Che partecipa al pride Con la Con la papalina Arcobaleno Eh Il papa che annuncia La venuta Del falco bianco Arriva Griffith Il modo in cui Loro riescono Ad abbattere Il villain Definitivo Finale Totale Tombale Secondo me E' un po' Una supercazzola Secondo me E Appunto Cioè quello Si è completamente Incartato Quando ha fatto I poteri degli stand Si è totalmente Incartato Svelo una cosa Potrebbe essere Spoiler per qualcuno Stardust Crusader Sì I poteri Di dio In Stardust Crusaders Sono Un'emulazione Dei poteri Dei poteri Della famiglia Jostar Tutti i poteri Tutti Diciamo Questo è un modo furbo Di Araki Per aggiustare Le cacate Che aveva fatto All'inizio Perché prima aveva un potere Esattamente Tutti gli altri Prima aveva un potere Poi ne aveva un altro Poi ne aveva un altro Ancora Si capisce un cazzo E dio brand È una macchietta Come villain È una macchietta Però 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 Si gode Si gode comunque Grazie mille a black dog Black dog 993 La quinta serie La quinta serie È un po' Scusa Ha saltato la quarta Andato direttamente Alla quinta Sì sì Ho il tentativo Di Araki Di mediare Tra Il cazzeggio Della quarta E Diciamo Questo viaggio Della terza Secondo me A tratti riuscito A tratti no E la quarta È la migliore Comunque D'accordo Non posso Akira Sicuramente Un grandissimo personaggio Parlare Della sesta Della settima E dello Grazie Mattia Dell'euro Si è incartato di più Araki con lo stand O Oda con l'Aki No Araki con gli stand Oda ha fatto una volta Ha detto vabbè Questi sono gli Aki E poi una serie Di Specifiche Degli Aki Secondo me Non è così Complicato Come gli stand Perché con gli stand Cioè lui aveva fatto Proprio un potere E poi dopo Ne fa un altro Cioè non è manco Una questione di dire Mi sono incartato Cioè Incartato è un Eufemismo Per dire Che è un Coglione Ottava serie Per il semplice motivo Che non l'ho mai letta Anche se Della sesta So tutto So cosa Succede Dall'inizio alla fine So chi muore So il colpo di scena finale So chi fanno i villain So tutto Ma non l'ho mai letta Invece di Steelball Run Non so nulla Davvero Sono riuscito A sviscerarmi Ma come ha più bello Non sape niente Ha più brutto È bello Ha più bello Non ha già letta Ma non stiamo capendo Proprio come funziona qua Stiamo sbagliando Il meccanismo È inceppato Sono buuuu Eppure Non l'ha letta Eppure non l'ha letta Che è rimasto Schifato da quelle Salve temerario Vabbè ma ha detto Che non ha letta neanche la sesta Cosa accade Non l'ha letta Eh non l'ha letta Che pure la sesta C'è un suo valore È un buon casino Finisce E finalmente finisce Il valore è che finisce Finisce E che Di comincia con la sesta Sì 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 Mi ha svicolato tutti gli spoiler La stessa cosa Di Giorgio Olio Vabbè La quarta serie Per me è la più bella Ah Almeno Concordiamo Su una cosa Una cosa Buona Saffa Amaron In assoluto Per me la quarta serie È il vero Grande capolavoro Di Alaki Per il semplice motivo Che è Una serie a cazzeggio Concordi? Le cose che accadono Nel paese Abbastanza a cazzeggio Però Un po' scollegate Il nemico A cazzeggio Il nemico Ah sì 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 che se loro Non capita di là Eh ma chi Ah non Dicite A parte No Tagliare le mani I piedi delle donne Vabbè sì Sbagliato Ovviamente È comunque una cosa Sbagliatissima È un cattivo Ma non un cattivo Per la serie È un cattivo Perché E Diamond Disunbreakable Per me Di quelle che ho letto È delle 5 che ho letto E manca la 6 La 7 La 8 Per me è la più bella Perché Non essendoci Il mondo da salvare Anche se poi Alla fine Loro Devono trovare L'escamotage Di salvarsi Dal villain Finale Totale Tombale Che comunque Perché Kira È 10 spanne Sopra Dio Brando Ma proprio Un altro livello Non avendo Il mondo Da salvare D'accordo? Io sì Sono d'accordo Tu? Ok Araki fa una cosa Interessante Ovvero Delinea L'umanità Per quella che è E l'umanità Di Diamond Disunbreakable È un'umanità Stronza Arrivista E Uè è vero Fra non ce ne sta Uno buono In Diamond Disunbreakable A me la cosa Che piace tantissimo Di Diamond Disunbreakable È il fatto che Il protagonista Stesso Che fino ad ora Araki Ha fatto solo Protagonisti Che pure Se sembrano Stronzi In realtà Sono tutti Buoni Nel midollo Tutti quanti Però non vogliono Far vedere Che sono buoni Dice Josuke Josuke Invece Non gliene frega Un cazzo Di sembrare buono Cioè È buono Perché lo è Però cerca Di fottere tutti Cerca di fregare Rohan Cerca di fregare Shigeji Shigeji Che cerca le monetine E lui è così Amma Trovata Bang Vieni Vieni La prima cosa Che pensano È come usare Il suo potere Per fotterlo Che quello è Ralf Cioè Ralf Fuso a Dodoria Shigeji Araki Si era visto Un po' Simson Dragon Ball Ma perché Non sembra I Simson Dai a Monti San Brega Fermati Stavotto Fermati Araki Ha beccato Un pomeriggio D'Italia 1 Si è visto Dragon Ball E la puntata Top Quando è venuto In Italia È da quello Ha fatto Ho capito In mezzo Un paio Di torcioni Un paio Di funghetti Ha visto Queste due cose E la mischiate Ha mangiato Un bello Spaghetti Spaghetti A pizza A pranzo Allora Spaghetti A pranzo Ci sono mangiato Un po' Di pizza Ha pure Spaghetti Ah questo è vero Perché lui Facce il mio schifo No No Non siamo arachidi Dieta carboidrati Lui ha fatto Il pranzetto Il pranzetto Ha fatto il zapping All'età Che beccato L'uno e mezza Dragon Ball E due Ma se ci pensi Mi fatti un po' I colori I colori Di Mario Show Ricordano un po' Springfield Tutti quelli in casa Viola Rosa Tutte strane Non sa che Sai per dire Che Mario Show Ricordava un po' Castellammare Un pomeriggio Un pomeriggio Un pomeriggio A Castellammare È normale A Castellammare Tutti hanno i superpoteri C'è l'uomo Del traliccio La sua Sotto Sotto La funivie Per mondo e faiito Mi chiamo scienziata E' potentissimo Mi chiamo scienziata Potentissimo Sì sì Ma rimari Ma rimari Ma rimari O c'ho Venio Esattamente la canzone Di Castellammare Funiculare 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 Venio Sotto Non cambia niente Estremamente egoista Ogni personaggio Di Dai Insurina Kid Vai Sospeso Fui Fui Via Vai Rifletta Ha detto Diamond Disunbreakable Mentre invece Mentre invece Tutti gli altri Protagonisti Tutti gli altri Infatti Vogliono tutti Beni Koichi Si è Gohan E' Gohan Che usa Cell Esatto Il suo stand Cell Con le tre Fori Vabbè Palese Proprio Ispirato Da Dragon Tante cose Sempre perché Ho pomeriggio Sempre perché Ha visto Dragon Boy Chiaro Ha visto Dragon Boy Le Simpsons Koichi Tutti gli altri Protagonisti Hanno tutti A un certo punto Arachidi fa vedere Il loro lato oscuro C'è secondo me La parte più bella Tranne La parte finale E' veramente Incredibile Cioè Il finale Di Diamond Disunbreakable È un crescendo Ma il finale Con lui Questo si può dire Quando ho visto Le mani Della Mona Lisa La prima volta Ho avuto un'erezione Realmente fuori di testa Qua arriva l'ambulanza Follia Immagina se l'avessimo Portato da pupetta Di Scanzano Tutta la parte di Kira Tutta la parte Del gatto pianta Che Comunque È Kira Volevo fare un appunto Su Kira Che praticamente È l'unico È David Bowie Con i poteri Dei Queen Ah questo si E' proprio Pure il gatto Alla fine Una citazione Il gatto Di Freddie Mercury Esatto Stray cat Il gatto Di cui sto parlando Adesso Mi è venuto in mente Perché parlava del gatto Sembra una cosa buttata lì Invece nel finale Succedono robe Bravo Ma la cosa divertente È che anche I protagonisti Veramente principali Sono preda Dei loro lati oscuri Soprattutto Quando c'è La parte In cui Come si chiama Non Jotaro Come si chiama Il protagonista principale Porca vacca Non mi ricordo Non si chiama Anche si chiama Josuke Non si ricorda niente Col suo No no Josuke Josuke Igashikata Ande Ai cigi Konori Dori 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 Josuke Bravo Josuke Igashikata E il suo amico Pure Manco questo C'è già dire bene Josuke Josuke E Josuke Scoprono questo tipo Che Ha Come stand Tanti stand piccolini E lui colleziona Monetine da 5 yen Fino a che Si rendono conto Che possono utilizzare Questo stronzo Per rubare Tutti quelli Che sono I gratta e vinci Oppure Le cose della lotteria Che vengono buttati Shigechi Bravissime E quindi a un certo punto Parte proprio una cosa avida Loro vanno in banca Hanno vinto un sacco di soldi Non si mettono d'accordo Sul come dividere la vincita E cominciano a picchiarsi E' una cosa proprio fantastica Non si era quasi mai vista In un battle manga Di amichetti Che si prendono Ammazzate Per i soldi Sul serio E quindi per me La quarta serie di Jojo E' proprio veramente Il presunto alieno Che non sai Se è alieno Ma no L'alieno ragazzi L'alieno della quarta serie Cioè E' un alieno Non è un alieno E' vero Non è vero Oppure no Il palo della luce Con lo stand L'ho detto millemila volte Che per me è proprio Altissimo livello E' fantastico Quanti gradi ci sono? So due giorni che piove Ci sono tredici gradi Che bello Il padre nella foto No La quarta serie di Jojo E' proprio alto livello E' proprio fuori di testa Però mi mancano Le ultime tre Prima o poi Mi metto in pari E ne discutiamo Cazzo era questo glitch Mi sono spaventato La quinta parte Secondo me E' molto bella E' Perché tenta davvero Di mediare Tra un Tra Un po' la spensieratezza Con il gruppo Di personaggi Di loro Che devono andare in giro Per l'Italia Con Il viaggio Della terza serie Della terza stagione E' A tratti ci riesce A tratti no Secondo me Però Tanta roba Vabbè direi che Un paio di sciocchezze Anche abbastanza gravi Sono state dette Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti